Ed andiamo a vedere come andrà su strade ed autostrade. Oggi le prime partenze per le vacanze pasquali, da domani il divieto di transito per i mezzi pesanti in autostrada, tutte le previsioni dalla sala operativa della Polizia Stradale. In diretta c'è Giuseppe De Caro. Sì, buon pomeriggio Francesca dalla centrale operativa della Polizia Stradale di Fuorigrotta a Napoli. Vedete il personale al lavoro e noi ci stiamo dirigendo verso i monitor sui quali vengono proiettate in tempo reale le immagini che arrivano dagli snodi più importanti della rete autostradale campana. Li vedete alla mia sinistra. Da domani aumenterà il traffico sulla rete autostradale della nostra regione perché ci saranno le prime partenze in vista della Pasqua. Particolare attenzione, sarà dedicata alla Pasquetta quando ci saranno le tradizionali gite fuori porta e poi in serata i rientri. Saranno giorni di grande lavoro per la Polstrada della Campania. Con noi c'è il dirigente del COA, il Centro Operativo Autostradale di Napoli, Alfredo Petriccione. Dunque, buongiorno Petriccione. Aumenteranno i controlli in questi giorni? Oggi è stata una mattinata di traffico intenso oppure è tutto nella norma? Sì, diciamo che la giornata odierna è stata abbastanza tranquilla ma da oggi e soprattutto da domani ci immaginiamo un aumento del traffico. Ovviamente i nostri servizi saranno implementati come sempre in questi periodi, quindi ci saranno più pattuglie di vigilanza autostradale, anche pattuglie in borghese per controllare e eventualmente reprimere eventuali reati in ambito autostradale come per esempio nelle aree di servizio. E poi ci saranno anche gli elicotteri del reparto volo della Polizia di Stato che permetteranno di sorvegliare le arterie autostradali all'alto e quindi di poter eventualmente intervenire in caso di criticità. I punti critici quali saranno? Beh, allora, nella giornata di domani, sabato, ci sarà sicuramente traffico nella direttrice da nord verso sud, quindi sulla nostra competenza la 1 Milano-Napoli, ovviamente da Caglianello verso Napoli e la 30 Caserta-Salerno. Mentre nella direzione opposta, sulla medesima autostrada, il traffico del rientro, quindi nelle giornate di lunedì sera e martedì soprattutto. Da domani pomeriggio divieto ricircolazione per i mezzi pesanti, velocemente? Sì, nella giornata di domani 14.22, nella giornata di sabato 9.16 e domenica e lunedì di Pasquetta 9.22. Grazie ad Alfredo Pedricioni, ripetendo il consiglio fondamentale, quello di essere prudenti alla guida, restituiamo la linea allo studio. A te Francesca. Grazie a Giuseppe De Caro.